Amici di Unibet, eccoci qua. Presentiamo la semifinale del campionato europeo Under 21, Italia-Spagna. Chiaro, la Spagna è la favorita, è una grande squadra, sta facendo bene, a livello giovanile è sempre stata protagonista, però l'Italia ha una grande possibilità. Siccome credo che i giocatori italiani abbiano cuore, abbiano fantasia, quindi anche se la Spagna è favorita, mi aspetto la genialità dei giocatori dell'Italia perché possono vincere questa gara e andare in finale. La Spagna ha parecchi giocatori importanti, quindi a me piace molto Asensio, che è stato protagonista tra l'altro in queste prime gare, giocatore del Real molto bravo e una gara che dovremmo essere attenti e cercare appunto di sfruttare qualsiasi opportunità perché la Spagna Italia cercherà di far gioco e l'Italia cercherà appunto di colpirli e portare a casa la vittoria. Mancherà Conti e Berardi, due giocatori importanti, però la rosa di Di Biagio la ritengo una grande rosa e io sono convinto che l'Italia può arrivare in fondo, giocarsi la finale e poter vincere l'europeo. Sono sempre Evaristo, scusate se insisto. Grazie a tutti.